Buonasera! Aspettiamo gente! Aspettiamo gente tanto! Vediamo! Ospite! Andate prima del collegio, sai? Dai, avanti, avanti! Direttamente d'alcoli? D'alcoli, sì. Backstage. Comunque mi hai risposto no. Guarda che ho risposto! Classico! Su, condividetemi la live, mettete mi piace, c'è altra persona, dai, non c'è mai! Guarda, 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 guarda! Condividetemi la bella! Dai, avanti! Aspettiamo gente, vediamo se possiamo iscrivervi. Ah sì? Allora, guarda, guarda che posso modificare il teatro del live. Posso mettere anche a sport o tanto. Guardiamo! Ciao, Filippo! Allora, tra l'altro. Ciao, come stai? Buonasera a te e il tuo ospite! Di nome è Filippo. Eh, esatto! Filippo, ecco! Filippo, ecco! Filippo, ecco! Filippo, anche lui, piacere entrambi! Ragazzi, ecco qua il mio fratello ritrovato che è uguale, non lo so. Se non avessi i capelli, cioè è uguale. Adesso. Dai, ragazzi, dai, 5, dai, condividete, sta live, dai, 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 Instagram, dai, 6, pula! Dai, avanti! Dai, mi devo far far film, ma... Vuoi fare aumenti degli iscritti, mi devo fare... Basta che fai TikTok, se hai fatto... Cassura ! Ruffo! di Fauci... Eh, Fauci! Ha problema di Fauci." Eh, lascianti! Ciao! Angro di EdP! Andhille... Eh, era linha tra professionale... Questa è romante... Chi c'era? Andhille, Anchi pracsittti... Un belcome oltre persone che alle deti屁 oltre delle persone, Io a comunicarle con gli altri con gli animoti che non sono diventato la roba scritta Ti capisci neanche? Ti ho visto qua chi è il tuo amico? Amico Abbiamo talmente un'intimità che... Dai, indovinate chi potrebbe essere tanto Siamo uguali Se mi sovezzo io posso dire Dai, Andi Ragazzi, dai Direttamente in anteprima del collegio sei, andi Tuo fratello Ci assomigliamo ma ne so Poi parlando di Alpo Ti senti? Ti senti? Un HD Ultra HD 4K 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 Ht 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 dai nominate dai nominate insieme ecco dai a fine è stato eliminato neanche visto si ha eliminato tre tre sono subentrati i sardi sono sardi cugino e ti piace fare i giochitti facciamo un gioco facciamo un gioco facciamo un regista siamo uguali facciamo un rebus se siamo uguali siamo uguali senza una persona che ci unisce ci siamo una parentela se siamo buono non è la mamma perché non siamo fratelli dai vanti solo quattro persone e solo una fattata e l'altro fattata e l'altro siamo uguali sì ma solo quattro quattro sei quattro persone però si vergognano si vergognano di cosa di cosa di cosa non so se no se gli fa posto non scrivere e se ne ho si lui sono più giovane io di nove anni otto sette eh ho vinto anni tu ne vico ho vinto a vinto di tese anni quasi io no tese anni di peter cosa hai vinto cosa ho vinto non te l'ha indovinato sì no, aspetta mi dice sentiteci io allora no mi dispiace la barba forse è la barba che sembra che io sia più grande di te però in realtà sentite che io i ormoni ho partito amico è vero perché lo sai non lo capisco non so di dove provincia di Roma provincia di Roma allora non capisco niente se per le mostre sì dai non so tanto Roma Nord Roma Nord è meglio di Roma sicuro poco ma sicuro va bene se me ne vodo è il mio nipote è il mio nipote mi toccava ti mi toccava ti se no non muoio è il mio nipote è adottivo adottivo per una settimana intanto in cinque giorni e dopo vediamo se mi accetta o se mi manda no non so se in prova stagista stagista me l'ho ritribuito male 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 ritriburissimo ma comunque cosa tentiamo cosa tentiamo dai ciao 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 è il personaggio di simpson che parla ma c'è sul logo è il mio nipote è il mio nipote non mi ricordo da dove viene vale se gli si manda tutti in linea e ti voglio bene ti do ma te ti do dai eh quella sta pazzo c'è il lui lui eh Sardegna 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 no poi racconto ora qua lì non c'è le per l'interno eh ma vabbè è risultato il collegio 100 campo di us easy eh però ogni persona che entra dobbiamo dire chi sei tu cioè sono io in parità volontà a meno che non l'indoniamo non c'è sì no ma l'indp non succede però dopo scriverai in chat che fate di bello di bello niente bello niente ma resto ammoloso siamo qua siamo qua a disposizione così tanto fare passare la serata perché si era ma di calmo di come ti chiamano Filippo Filippo no 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 vai vai vi dovete mettere le mascherine allora intanto siamo congiunti siamo congiunti dai siamo congiunti siamo tutti negativi a parte quello siamo parienti quindi siamo parienti non è strano faccio il buio eh fa il buio se metto la mascherina eh sì ah lo sai che io se pierdo l'uomo lo sai che se metto la mascherina dopo il buio l'uomo l'uomo è non capisco dobbiamo parlare parliamo normale parliamo normale guardi tanto ci parte via letto siamo ragazzi di strada ormai siamo ragazzi di oggi figlio di tua sorella sì figlio di no figlio di figlio di mia so figlio di mia sorella ah eh no no sì 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 figlio di mia sua sorella mia mia figlio di figlio di mia sorella figlio di mia sorella ormai stavamo fratelli perché in fine siamo sì sì tanto dobbiamo fare la stessa pallata mi ha un po imbalbato questo figlio di tua sorella perché io stavo pensando mia amma non mia sorella perché se affini di sorella è un problema amma amma andiamo bene andiamo bene i gradi di parentela io non ci sono ragazzi ma me lo stanno a dire i gradi di parentela che è venito ma figlio di tua sorella della mamma della cognata della nonna della zio quindi non ce la partiamo qua sport non mi piace sport non mi piace non ho tempo di seguirli va bene dai avete domande intanto dai avete domande particolari piccanti sexy se volete sapere singolo vabbè proprio per fortuna non segue sport no qualche volta gioca a calcio qualche volta nel tempo libero non ne ho però non dico cagliari ne roma o lazio dipende la dpi per la non è tifo del calcio però no buah solito ti fa per la Roma no lavoro da poco stiamo finito quest'anno a giugno per far cosa? a fortuna che fai riva? niente lavoro qua a San Benedetto non so se aversi penso che non so io non conosco San Benedetto e niente gioco a calcio nel tempo libero faccio skate così per tenermi in forma e basta questa ma c'è da fare quanto questa c'è da fare tanto mantenere la macchina e basta e niente ho usato la bocca secca ma in fine da loro c'è coprifuoco alle 10 come da noi no? in teoria i pene casole qui? che tempo fa lì? soleggiato che tempo fa eh adesso no si o di nuvole no sereno sereno come da tanto cosa vuoi uscire finisci in montare le offer metto di solito e scionoletta quindi è come stare a calcio quando prendo un po' di ali dopo ha filato siamo legati da da decreto tanto schifo un altro anno fino al 2025 no perché prego no non cambia le crepi ogni volta cambia le crepi fino alla prossima ma posso spedare siamo in zona gialla male 22 a calcio eh niente 4.000 non adoro non facciamo il tempo aprire la birra non so bene non mangiare tutti non hai non so domani si prende la birra dalle 2 di poveriggio fino alle 10 e bene bene io devo senza niente mangiare ma signore è a posto ci scopriamo solo birra non so è a lola è la tenere sì sì non so Si, mette un like se non mettete like senza iscrizione neanche inutile che mettete like perché non ha senso. Questa è una bella notizia. Che colore siete? Che colore siete? A me si parla di colori. Che colore siete? Oddio in Lazio. Io mi gioco il giallo. Il colore siete? Sì, il giallo. Finesse con fortuna? Siete usciti a passaggiare? Certo. Un'oretta tanto. Siamo andati a fare l'utile. Tanto per stare sempre a casa. Sì, tanto facendo commerciali. No. Mi sono più in giraffia a testa perché ho 25 giorni a casa. Non è bella. Non è bella. Con tutte queste luci qua. Tutti che pensano che sia il tuo amico. Tutti che pensano che sia il tuo amico. Tutti? Eh, tiziano vanno. Bisogna mi scrivere. In carattola. Luca, chi sei? Questo tuo amico. Ne volo. Me ne volo. Me ne volo. No. Poeta. 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 Ma io, ma le dimissioni. Tutti poeta. Tutti poeta. Tutti. Ma non dire che. Ah. Ah. No. Era solo per te il gioco. Per gli altri video, diciamo. Sì, sì. Sì, sì. Vai, spalmata. Stati dentro. Su Instagram. Facebook. No. Instagram. Abbi. Perchè adesso si è magna. E' a spiritually. Non le classiqué si savaаться. Un pf ce lo è. Filippo, non vebu. No, 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 è tutto serio, tutto serio, tutto serio, eh non è vero serio, qua si tratta solo di argomenti intelligenti, ma basta che ci siano, non mi riesci a dire che è una morosa, è una morosa, lo siamo messi male qua tutti e due. Io posso salvassimi, no, io posso salvassimi, no, io posso salvassimi, no, il tuo nipote, eh sì, ho avuto i ospiti, hai mangiato, ok, ma no, insomma, mangiato, non male, Beh, ospite, c'è in piena i miei ospite cinque giorni, ospite, tanto se vuoi potremmo avancare la live reaction della mia propria. Eh, che stai facendo? No, nel mercolo, giorno. Ah, ok, tanto. Ah, perché ho giocato ieri, ho giocato ieri, ho giocato ieri, ho fatto la mia posta partita. No, infatti mi pareva strano, cioè io so che avevo la tua figlietta, come hai detto non serve molto Sì, intanto è solo andare a femmine, bere, vanti a casa, andare a costa, l'isola Questa cosa è il lobby su Ragazzi, io so che non va ogni volta, però potete, potete Aspettatevi Aspettatevi Posso avere... Posso avere qua a Beleno o a Lamborghini, non so Eh, magari Vedi, vedi Anche che reaction Live reaction Ciao 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 Noi Ehm... 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 Vedi... Uh... Ehm... Mi vedevi Ed è il culo Ed è il culo Ma non un culo Ma come devi tirarlo fuori? Ragazzi, non so se vi ricordate quella volta che c'era mio papà che ha detto Ma non ti si, non ti si, non ti si indietro, ma cazzo, eh sì No, aspetta, adesso te... Luca argomenta Luca argomenta Ho saputo l'argomento, Pisciano Perché sei da lì? No dai, vanno così a live erection Beh, ovvio che siamo i ventini, non dico perché Siamo sia fratelli e ventini, più tutta stirpe Sì sì, vanno Dove devi tirare un po' questo video Non mi ricordo Non mi ricordo, sto al video Non mi ricordo Qua c'è per canale YouTube Perché ogni volta mi sono fatto quell'account Mi sono fatto un altro account Perché YouTube mi aveva bloccato a live A live streaming Perché... E ora, visto che è la prima volta che non lo sapevo Tutte... Tutte queste cose del YouTube E poi la copierai Non so niente Era adesso che ti parà Studo l'audio E MST Ti tirerà il smadone e basta Poi hai anche argomenti di cui puoi parlare Di cui non farà il nome Perché sennò è la parola No, ma non ti pagano, basta che mi parli molto tutti Non c'è assoluto Io non ricordo Ehhhh 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 Non mi ricordo Non mi ricordo Non mi ricordo in che live era Poi Vincenito Questa è la risposta Se avete mangiato Esatto Si Ha fatto effetto adesso Ehh 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 la troverò Non mi ricordo Non mi ricordo Ma non mi ricordo Ehm Vincenito No, 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 no. No, 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 no. Sì. Ah, no, no. Pensava forse il coso del… Ah, no, tu te spogli mi vedo. Ah, no, no. Ma hai corte? No, no, no. Mai te lo fai. Mai te lo fai. Lei te lo fai. Sì. Ti ho caldo. Mai te lo fai. Basta. Ma io ne ho finito. Ti devo andare un po' più da qua. Avevi visto il fisico? Vero? Vero o no? Sì. Sì, non è stato stato un bravo legno. Ma so, abbiamo anche più, che te ne è teo però. Teo? Vedi un po' più? Sì, sì. Ma di davanti... No. Stai a dire. Vedi molti, poveri? Tutti gli occhi. a me mi è piaciuto essere fisicato dai 5-8 mi piace vergogna mi tocca sbattere mi tocca spaccare piatti non si può nominare perchè dopo si compilavete no che mi manca il piozzo di parchi no che mi manca il piozzo di parchi tu che fai? audience audience magari perché non vado eeeh ciao Lello ma è Lello o Giorgino che parli? Lello o Giorgino? sai che se mette mi ha chiesto se faccio nuoto ma non ho le spalle larghe mi facevo nuoto mi facevo nuoto no ho fatto ho fatto 23-24 anni nuoto sto bludo ma io asgrafo eeeh 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 ma non mi piace no perchè se Puglinger sta domani sta poi domani ragazzi volete il live reaction questo essere questo essere con questo individuo strano domani appuntamento alle ore domani è martedì domani è martedì collegio collegio ma non posso partire ma sì io ho perso due anni e sto a vedere un canale dove ho perso un canale facciamo solo da un canale ma è vediamo io quelli di youtube scoperta ma cosa viene qui questa roba ma cosa viene qui questa roba non usare tu da dire questa roba o no ma cosa che sei allora è mercoledì ma che sei cosa sei cosa sei botte ma chiamo il bot ma che chiamo il bot allora è mercoledì ecco lei Con la odio stuva, eh? Strami No No Vai, vai 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 Possiamo parlare del meteo Ci improvvisiamo dei meteorologi 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 Forse siamo giuliaci adesso Domani è nuvolo Che cazzo dico? Intanto loro sono da tante parti Ah, quel cazzo, mi tocca mettere il B Ah, col cavolo di Eh, no, è troppo No Sì, sì, no Non puoi dire, scusami Dunque, faceva nuoto Adesso, basta Perché ha avuto L'arco 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 Chi 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 vai adesso facciamo ma gli si è stoppata la live noi stiamo continuando il programma è solo a D'Urso solo a D'Urso ancora finita ancora a D'Urso solo 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 a D'Urso non fa niente non fa niente oggi anche lunedì più YouTube YouTube forever guarda che adesso sei tre, quattro, cinque in live contemporanea solo a D'Urso qui è direi non è vero qui è qui è qui è qui è Grazie a tutti. Non facendo niente, non abbiamo argomento. Abbiamo parlato. Se vuoi che metto il Q è fuori, ma insomma... No, quello non vado aspettati. No, quello no, però... Adesso mi banno a camera. Segnalazione per combinare. Segnalazione per combinare. Segnalazione per combinare. Dici mi piace. È bello figo, guarda. Questo è bello figo. Questo è bello figo. Questo è bello figo. Questo è bello figo. Guardate gli effetti di Instagram. Non mi ha parlato. In Instagram. In Instagram. Per il peso dei pasticchi del Viagra. Ho bisogno di acqua. Guarda che bella. Guarda, non posso prendere l'acqua. No. Di prosciutto. Di prosciutto. Una volta che ti sei più giocato. Ho bisogno di prendere. No. Perché hai il carico? Sicuramente. Allora, ci vediamo. Per quanto riguarda l'acqua. Allora, l'acqua. Allora, l'acqua. Cioè, ma te la stacchi qualche volta? Ah, perché non si possa prendere? No. Per quanto riguarda l'acqua. Per quanto riguarda l'acqua. Solo che mi sconchete il sonno. Ha notato. Ed è stato l'acqua. No. Ormai non voglio più. Non voglio neanche più spiegare. Per attaccare l'acqua. Per quanto riguarda l'acqua. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Questo è l'acqua. Vabbè non ha detto. Non ci sono stati perché ho visto. Ma non ho avuto. Ho avuto i cinque skin in live. Ah? ecco beh 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 non so come gli passati altri a mettere video a fare il rex ma anche se anche se lo fai geni dopo comunque ti ma lo so e dopo i bannati chi vuole lukas lukas emos no perchè io non sono collegato c'è un'altra persona tu tiziano e c'è un'altra persona ah non so non ho capito niente c'è due bau non ho capito verde live verde verde no no ok no non 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 il il non 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 Sì, non spiega. Ah sì! Oh no, non mi scusca. Non lo sai che mi stava. No, non lo sai, non lo sai. Non lo sai, non lo sai. Non lo sai, non lo sai. Ah, ok. Le trafone diverse. Ma che sorprendono. Ma che sorprendono? Perché no? Perché stavo pensando. Se gli altri su Twitch comunque guardano le robe dei colleghi. Sì, lo so. Ma cosa? Si mette anche... Si mette in diretta... Si mette in diretta... Si mette in diretta mentre si deve guardare. Si? Non lo so. Ma su YouTube? Non lo so. Ma su YouTube? Ma su YouTube? Ma... Ah, la Patricia che ha resti zunno. Spero no. Ah, la Patricia è un po' odio. Non lo so, non riesco. non so se l'orario non so che faccio un voto non so che faccio un voto non so che faccio un voto provare provare ma se l'orario faccio 6 persone da so io vedete quando quando faccio la idea del collagio non so che non so non so che ah le da partida sono curiosi sono curiosi sono curiosi è una verba bu Eccolo! Ufff! 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 Vai, avanti! Ufff! Ver... Puede che... Ufff! 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 Scusi, non so se è ora... Niente! Stavamo aspettando! Eh, oh! Ma adesso, non la Raiver è X. Più aspettiamo... Sviluppi interessanti, sennò... Non ne so... Non so di fare belle figure, ma... Non so che non so che non so di mangiota, non so... Però adesso... Se lo fossi... Se lo fossi... Io vado a letto! Perché domani davo quello che mi impreghi... E gli danno il mando... E gli mando per io... So stufo, so stufo... Vado a dire che ti sicuro si fa il sono? Iiii, ma no... Fidati che... Dopo una giornata così... Prendi il sono, sì... Poi dipende... Ma hai buon talento, però... O no... Fidati che non guardi Instagram? Instagram? No, no... Non mi metto mai a conteggiare... Ma di... Dormire... Guarda... Guarda di tu... Guarda di tu... Guarda di tu... Guarda di tu... Di stracchi... Vabbè... Di stracchi... Guarda di stracchi... Prendi che... Di stracchi vale... Vabbè... Guarda di town gezeigt qualcuno... Chiè? Può vi dici niente, te... No... Ah... Oh non qui si è... Questa... Questa quello che ha conoscato, non si? Ah Questa quina cosa... Questa operativa... mai perchè sei abituale ormai ando scusate eh vabbè ando eh non sei mica mi mi eh qualissimo eh sì ho perso anche la triplosessual ho più voglia ho perso tutto ho perso tutto ho perso la cavoia ormai per tutto fai da te ma così no è possibile ah per tutto fai da te non ti hai più voglia di niente ah no 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 ma non te hai più ma te hai più stimolo del mondo ma è così ma è così andiamo a convivere a convivere tutto eh Luca ma il supermercato non disetto sette che te piace ancora sto poco male fissare il supermercato beh guarda che oggi al supermercato c'erano le commesse ecco sono tutte le medie vai la questa maglietta ma ti per caso ma che lo so brutto allora la tua età mica la mia erano 25 26 anni va bene ti sei che quando ti passi il 30 ti senti mio no non è vero ti senti mio ti senti nel 40 anni ancora che è fino a parte non è da poco mi fa finta essere solo nel 40 anni si 10 BANG 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 sto con sinto qua però poi non poi non si non ho young se non poi ci sono del 12 12 12 12 12 hai uscito il 12 adesso poco non mi ricordo Insegni, insegni, insegni. Lui mi ha insegnato da piccolo, adesso insegno io. Ma cosa sto insegnando da piccolo? Beh, quella pallonata che mi ha tirato il tuo cugino o quella volta che avevo giocato qua a calcio e che mi ha spaccato l'albero, non ti ricordi? Ma che vero? Mi ha insegnato a giocare a cazzo qua, non pensavo. non io devo perdere tutta cosa m'ehan guardato? Cosa m'ehan guardato, mi non importa? Beh, tutto. Beh, ma io mi il cana corretta che mi diocuina che aveva calcio. Mi non sono, mi non sono. Lo credo eh, a me ti mette mis chimiciini. Vabbè Si, basta che rispida Si Non c'è niente No, va Eh, vabbè Va a terzo Basta che non parlo troppo di terzo un entro Su casa, no? No, no, via No, io vedo che è un entità Ok Vabbè, andiamo E' un'altra cosa Non lo so Così dai? Al resto E fu così che Tutti con te caldo Sì Tutti con te caldo Tutti con te caldo Tutti presi con te caldo Pfff Eeeh Vai Ufff Tutti con te caldo Basta Tu vuoi provare caldo Poi Beh E di che altri Mi sono allenato un sacco Tutti con te caldo Quasi No 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 Io vedo La memoria Precoce Ma Non c'è Non c'è D'acqua Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Basta Pasudo Ho Chorsai Basta C'è ย Quanti Va A Sulta Met It Un pòamis C'è Un pòmir 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 per mille facenti alla milla bella l'ultimo metà cosa che... mi trovo inserire la nuova calcio e il mio amico in faccia mi ha inserire la nuova mi ha inserire e ha detto questa cosa ancora quando avevi gli alberi poi li aveva fatto tutti te che mi ha detto alberi quella di... quella di... tre volte su quattro non era una roma al tavolo era una roma di migliore che era una roma di migliore perciò ha le... la lap dance e parli del black nose è quello la si chiama no, forse se parli di uno street loud è quello la di... di bozza non c'è capito la vita quando sono nato la lap dance cioè quando sono nato io la lap dance me la vedo quella me la vedo ma non so non ho mai praticato la lap dance appunto ma hai visto una... non hai visto una... non hai visto una... ma hai visto... ma hai visto una... ma hai visto una... anni... anni 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 che poi si è trasformata in una discoteca e poi hanno chiuso un po' di... ma qua night non so è night... è night... beh a parte che adesso avrò quando c'era roba all'esterno c'era il pittino poi hanno chiuso anche quello ma di solito io non frequento gli scattori ma no... se siamo arrivati devi andare a cinema di una volta una volta... quando ancora si toglie l'holywood l'holywood e... e... l'holywood Eeeh, vabbè Ti voglio dire Tutte valli Tutte valli Ah, dove? A metri? Oh, non ci sono mai stato Però Beh, io ho 20 anni Quindi Ah, è vero, non abbiamo neanche una differenza Quindi volevo Sono Sono Vero nova, vero nova è No, 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 no C'è un po' più vecchia di me, ah? Ah, è vero, non è vero No, non è vero Non è vero Eeeh, non è vero, non è vero Non è vero, non è vero Eeeh, non è vero Non è vero, non è vero Cosa? Ma cosa vuoi da vedi? Ma cosa vuoi? Non è vero, non è vero 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 Non era niente Era SMS Non pagare un fracasso che ne abbiamo investito no? no c'era MSN messenger come avevo usato dovete andare a Vicenza cosa c'è ancora ancora il boss c'era Michael Calentino come si parla era Vicenza si, non club non club non club cosa bla bla sono le cubiste le cubiste cubane a dei due a dei due quale si chiama si non club ma di solito vado a Buretto Kings ma quelle volte che non ci sono in bocchia perché adesso fanno tutti i eventi con un campo di plaza tutti quelli la quindi tutti in bocce no alla sera anche no prima del pomeriggio a mio no una volta una volta al sabato al sabato al sabato il pomeriggio si mi ama al pomeriggio si amazon nel pomeriggio anche non non su non lo Siamo in manca massa, Robi. Escrivetevi al canale! Lasciate un like! Escriviti! Attivate la campagna! Escrivetevi al canale! Escrivetevi al canale! Mi raccomando lasciate un like! Commentate! Fate quello che volete! Sono un armolo! Fate quello che volete! Fate quello che volete! Fate quello che volete! Stai parlando come! Te piace così! Vedi like! Vedi like sono! Vedi che c'è la prima volta da Zlatino Ibrahimovic! No, io sono Zlatino Ibrahimovic! Vedi! Mi chiamo quali intanto? Stai parlando di un like! Mi si mette la figura di carton qua! Esatto! Stai parlando di un like! Ora mi raccomando mettete un like! Iscrivetevi al canale! Assemanangulari! Stai parlando di una percube! Stai parlando di un beccinc nodro! Stai parlando di un canale! Stai parlando di un bambino! Stai parlando di una reazione!" Stai parlando di un po' aderirla! Stai parlando di un po' di cal més! Stai bucani! il tractor è... no 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 porca guarda come si chiama c'avevi anche una foto con quello che viene morto che viene morto? che viene morto? che i figliotti che erano... avevi fatto quel detto? si, va... si chiama un gran po' no, si non è morto ma era un tractor? si ah, era uno... si, quelli con il cartellucco eh, cosi, dai, dai, cosi non mi è in mente dai, mi è in mente già dai, mi è in mente già ma non mi è in mente eh ma non mi è in mente tipo... no tipo... 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 gilets no, gilets cosi non è in mente si 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 di giusti oggi si esattamente lui c'è di giusti è o meno è o meno è o meno è o meno non sei se vedi a me se vedi a me farlo un piccolo se vedi se vedi se vedi mi conosci oh dio mi fa troppo mi conosci no mi conosci non si ить eh, devi andare saю di giusto ah di giusto ah di giusto ah di giusto las� erato fuori quandermi io mi ha finanzato buonemente ah prezi 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 dai Vai, Antti, Antti Per motivazione Lanzi del fazzoletto Dai Vai scrivermi per car... Vai Vai scrivermi per car... Vai scrivermi per car... Vai scrivermi per car... Vai scrivermi per car... Il contenuto è finito Adesso E fu così Atten... No, no, no... Bebe Quando bebe gnanca No, no No, un minuto più va bene Sto scherzi No, io non bevo mai durante la settimana Dal venerdì in poi Sì 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 Perché al lavoro bisogna essere attenti Perché sennò... Un attimo qua alla cappella Sì 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 Da cocco e patatine Che patatine Non puoi da mangiare Ciao Ciao Tavate Sì Sì No, dadie Vediamo 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 Miau, miau, tu vittimitz. E poi... Allora, allora... Vabbè, adesso, dopo un'ora è... Un'ora è bella... Ma no, potete... No, comunque è... Il controllo qualità del pet ha smirato. Quindi, comunque... Sì, sarà abbastanza attenti perché, se sbaglio, mandano via bottiglie che non vanno bene. E dopo, se cacassi in un... Non lo vedi. Non c'è perché che voi... Eh, tutto... Cioè, solo a quale tale... Sì, da... Quindi... Se una roba non va bene... Non va bene. Quanto avevo detto che... Eh... Cioè, sono state volte in cui... Gli abbiamo rimandato le robe dietro alla Pepsi. Vabbè. Sì. Che soldi! Tanti soldi! Cioè, per fare... L'altro giorno mi hanno detto che avevo fatto... Eh... Due prove... E di quelle due prove hanno pagato... La Pepsi ha pagato all'assemblea eletto... Eh... Die... Diecimila... Diecimila euro... Diecimila più i cinquemila... Utilite... Tutta quanta... La politica, insomma... Sì... Praticamente... Cioè... Il... Il controllo qualità è dentro all'assemblea eletto... Cioè... C'è l'imbottigliamento... Tutto qua... E poi il controllo qualità... Clinica... E quelle cose... Cioè... Il controllo... Cioè... Cioè... Isn't that ribbit? Ciao spettate... Ciao spettate... Cioè... Ciao spettate... Ciao spettate... Cioè... E poi... Io sono Luca, tanto sono uguale, no a parte che vado a prendermi un goccio d'acqua, scusate. No no, adesso siamo andati a bicchiare, io sono andato a prendermi un goccio d'acqua e Luca invece è andato da Giorgio, non so se ne abbiamo mai detto, sempre in Suisse. Claudio, adesso appena arriva Luca Giorgio. Ah, signore. Sai che tu, Juventino e Tiziano, ovvio. Sì, c'è una preforma, che è tutto un blocco così, che dentro la macchina viene gonfiate sullo stampo e viene a fare gli abottini. Scusa, stavo conversando. Sì, Juventino, bravo. Bella stella. Sì, Juventino. Sì, Juventino. Sì, Juventino. Sì, Juventino. Eh, va bene. Sì, Juventino. Sì, perché è una squadra andata che sono salita. Sì, mi devo dire che a questo. È un belusione. No, non, non è ora che. Sì, è un belusione, non è un belusione. Quanto non c'è l'acqua alta? Perché il Mose è grandissimo il Mose, complimenti al Mose, che ha funzionato alla grande. E il Mose non ha funzionato, cioè non l'hanno attivato in tempo perché si attiva dopo 48, cioè loro l'attivano dopo 48 ore, cioè ci vogliono 48 ore con un po' di più a break e schialzi e secondo le previsioni loro non avevano mai visto pioggia, invece ha piovuto, quindi non hanno alzato il Mose. Venezia è ragazza. C'è quelli che hanno costruito da sotto. Ah, no, no, no... No, 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 no. Ah, il Mose, sì, sì. C'è il Mose. I poveri italiani che vanno a lavoro! Mi dissocio, mi dissocio, mi dissocio, mi dissocio, sempre, or forever, sempre. Dico il pagnolo, va bene? Anca l'acqua. Anca l'acqua? Anca l'acqua. Sì, sì, hai ragione. Non mi piace. Non mi piace. Mi piace, non mi piace. Mi piace. No, non mi piace. Il mio iPhone mi dice andrei a dormire alle 11, ma fatica. Non li puoi, scrivi. Andrei a dormire alle 11, ma fatica. Non li puoi, scrivi. Andrei a dormire alle 11. Quando dovessi. Mia mamma adesso. Ho mia mamma qua, perché ti capisco. Vai andando qui. Ehhhh. Luca, Maggio, andremo a trovare Claudia. Ma... Dipende. Dipende. Dipende se sto Covid o qua, perché... Guarda. Dai, non metti che per febbraio, fine febbraio, si sistemano un po' le cose. Cioè, nel senso si può, eh. Speriamo. No, però dipende. Asperita, prendi perché qua non c'è il vaccino. Non lo so, aspettiamo il tuo vaccino qua. Tommy. Eh, ma comunque devi fare il vaccino, poi che ora che arriva il tempo di stare a chiude. No? Arriva... Il vaccino poi devi aspettare da un vaccino all'altro. Perché devi farti due vaccini, poi l'altro devi fare dopo tutto il ciclo. Cosa è tipo il tampon? No, so che comunque sono due vaccini e ce n'hai. La prima parte, la prima iniezione, ce l'hai in un giorno. E dopo 8 giorni hai la seconda iniezione. E dopo diventi, forse. Ci sigliamo di questa notte. No, poi l'assiste a quello post-aprocalintico. Cosa dell'azzo fase. Abita. Cosa. Abita. Cosa. 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 Ma il vaccino è facoltopio. Eh? Il vaccino è facoltopio. Sì, facoltopio, ma... Non mi riesce a me fare, no? Sì. Sì. Beh, dai test, eccetera, che stanno facendo, perché stanno andando a lasciare un po' di... Beh, allora sono già posto io, cosa c'è? Sono già vaccinato. Il dato è... E' giusto, ed è dottore. Eh... Va bene. C'è ora? C'è stato, ecco, a faccio. C'è stato mi pare, succede... ma non è davvero ancora. C'è stato un' minuto. Ma, ti sei che... Oh! Non ho molti. Vedi che in Internet. C'è proprio un'ara, bene. Dicardo, è proprio un'ara... C'è stato un'ara, cosa simila... C'è stato un'ara, cosa è sempre mio. Comunque la sta prendendo seriamente il vaccinarsi per il cosiddetto. Va bene, va bene, questa è una buona motivazione per il mio cosiddetto. Dai, vado dal sole. Che schifo. Vergoia. Che schifo. Che schifo. Che è quello che vuole. Che è quello che vuole. Calendari di... Pascoglie. Dai! Perché non si fai un cacciato? Dai! 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 Lì, bene, qualcosa di più... Che faccio più rumore. Che faccio più rumore. Che faccio più rumore, ma... Che faccio più rumore, ma... Noi parliamo di... Noi parliamo di... Noi parliamo di... Noi parliamo di anatomine. De robe... Brutte. Di che tu sei suono. Noi parliamo di 18. Noi parliamo di 18. Che schifo. Perché mi sono pronto? Noi parliamo di 18. Noi parliamo di 18. Che... Che... Non era quello che ti... Si! No, sentiva... No, sentiva... A me sentiva col... 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 Acquilla... Emo la先ata... Un'altra... Inolvera postata... Inolvera postata... No... Ah... Inolvera... Noi... Noi... Inolvera... Nっぱi... Inolvera... 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 Nelvera... Nelvera... Inolvera... Non mi viene la prima... anche su un descritto appartamento, è una carità, ti ho fatto tutti ora, carità, però la visione è che Dottoria o appartamenti nobili? Tutti i miei supporti, ma prima che sia tutto... Sì, sì. Questa ora? Sì, ma... Ma come ti muori, là? Ah, non so, ma no. Bella Venezia, Bella Venezia, però... O piedi... Tutti anguiti, tutti diversi... Se no ho detto che andavo in caso a Marco, l'altro. Cioè, io andavo molto spesso a Venezia, però... Lo so, non so. Lo so, non lo so... Tanti, 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 di Giuseppe, a Venezia e per altri, adesso. E poi, comunque, si è abito a Anna Venezia, tutti i giorni. No, Venezia era impegnativo. Sì, la carità è meglio fare, mezzo all'onda su mare, perché tutti... Sì, sì... Tutti che erano bene, tutti che erano a paese, tutti che erano bene. Allora... Stiamo dialogando in maniera... No, stiamo solo dicendo che è un grande casino. Muoversi soprattutto da quello che vediamo noi campagnoli. Da noi soprattutto campagnoli. Mi sono già detto che non mi sono mai sentito. Mi sono sentito una domanda... ... che è sempre. Ha, mi sembrava un po' gnocco, non? Un po' gnocco, non? C'è un po' gnocco, non? Sì, non mi sembra di fare il mio tempo. Sì, non mi sembra di fare il mio tempo. Sì, non mi sembra di fare il mio tempo. Sì, non mi sembra di fare il mio tempo. L'occhio è l'orario, guarda. Ha cosiddetto? erano add necesità suej? Sì, si... ti effetti che io ho accelte l'orario da qua... Sì, lo faccio all'orario. Guarda qua, guarda qua. e che fatta di tecno? Sì, la prima cosa è vero. è tecno o no? o l'amore cattivo? ma, grazie. Dici scusate, sennò... Io si... 20 anni? Io si, mi accomodo anche, mi... Io ho già costumato. Non capisco. Però devi avere i miei che pinge a loro, molto pinge a loro. Grazie, grazie, grazie. Un'altra domanda, un'altra domanda. Un'altra domanda. Un'altra domanda. Un'altra domanda. Intresti. Cos'ho prendere l'altro. Un'altra domanda. Un'altra domanda, un'altra domanda. Perchè non mi persona i tonti. No. Sì, che cosa serve di Instagram adesso, vedevi la vita di Instagram? Ma non c'è Instagram, non c'è, Luca non c'è, la c'è è l'antica. Ah, ma le vite non c'è, ma fa più o meno, ma fa più o meno, ma non c'è più o meno, ma Gaudia non c'è, social, ma c'è quando mi scrivi i messaggi mi scrivi tutta, tutta precisa, Scusa Luca, punto. Ti chiamo dopo perché ero impegno, punto. Sposta anche il telefono così. ti chiedono, ma io vengono la mia. Ah, lì fuori mi tirano bene e sembra, non vengono l'euro. Chi c'è una parte? Questa è sempre la sua? Già, non è nascita questa parte? Scusa, questa è la sua? Scusa, va bene, va bene? Vai, va bene, va bene, va bene. Ma allora? 15 minuti Sì, è vero A Venecia Sì Intanto girare a piedi Sì, sì Viene colando Te spettiamo Spettiamo Visi 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 Non è che ci sia Visi La maiuscola mi sta dal nome E' proprio Uff A piedi o se no Ovviamente Zona Laguna blu Uff L'ho L'ho E L'ho 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 Per me adesso non ti basso il caotto Ascolte perché non ti getto, non devi passare Perfetto Ah che ti trovo Ah che ti trovo Oh scusa Stai 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 Penso che è insegnante di matematica Adesso voglio una spiegazione a tutto questo Perché è insegnante di matematica Soprattutto all'esame Che tu tutto l'anno ti senti in cielo Io comunque sono stato bravo in matematica Una cosa non mi riusciva Non mi riusciva L'integrale Definite Con gli infiniti Ok? E non ci capivo un cavolo su quella roba Ho provato, ho provato, non ci riuscivo Poi io gli ho detto Però io non riesco a fare queste robe Ci sto provando Mi ha anche aiutato Non ci riuscivo Cosa mi ha domandato l'esame? Integrale Definite E' un po' di chi E' un po' di chi E' un po' di chi Oltre la bole E' un po' di chi 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 Ma sì Se io so che Meglio avere il pigam Meglio avere i pochi Ma Ma Così Come Ci sia preso Ma Sennò siamo fuori Sono dei lati legalizzati E' stato un insegnante E' capito Ma Aspett Ma Insegnat Scuola è giusto essere severi durante l'anno però cavolo l'esame di stato un po' boni in che senso dà la sincera è una scuola è meglio è una scuola è meglio che schifo per carità bello però sì sì no e alle medie mi pare che alle medie finisci allora fai in prima o in seconda fai i cerchi dell'euro ben non me ne ricordo cosa pensate cosa pensate del natale il lockdown siete ahia è un po' ma io mi io voglio vedere che passo questo anno posso vabbè io essendo giovane sono abituato al natale capodanno fare il disastro che stanno io devo vedere che passo questo anno non voglio dire bisogna fare med quello metà io gli hai passo ah dai 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 da dai il l'è store ah vai vedete vai aworkers e violence No, mi... Sì, sì, no, adesso... No, perché no... Cominciamo il diagramma... Non so, non so... Eh, le frazioni fratte... Sì, le frazioni fratte... C'è un movimento un'altra cosa che non viene in mente... La seconda posizione... C'è un'ottica massimo come un divisore, io come un po' di potenze radicali... E dopo ci sono... Le... Che non mi viene in mente... L'equivalenza... Eh, l'equivalenza... L'equivalenza... L'equivalenza, sì... L'equivalenza... Sì, sì... Sì, sì... L'equazione... L'equazione c'è i anni fa, certo... L'equazione... Ovvio non ricordarci... L'equazione... L'equazione... Cosa hai detto? L'equazione... 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 Oh, che merita... Sssh... L'altro lo mettiamo piano piano... Così... Se stessi parenti... Eh... Alla quattro... Quattro la quattro... Mi pensavo di scampare... Mi pensavo di scampare... ... ... ... ... il solito natale siamo una taurata di venti parenti quest'anno saremo il tre il tre il tre grazie va bene grazie dai vi saluto vi do appuntamento dai riporti bravi bravi va bene posto te che manca la cusina te che manca la cusina dato positivo grazie ci sono mette in alto domande e chiuderei qui dall'anela che ti mi hai detto mi hai detto mi hai fatto un piacere conoscere Tiziano soprattutto mi hai fatto un pezzo non ho la lì non ho fatto mai ho fatto da più grande non ho fatto qua suii chi sai Sì, continuiamo assidante. Filippo! Filippo! Guarda io questo! Prego! Filippo è che mi ero mio! Filippo! 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 Ryan! Filippo! Filippo! Guardi che mi facevi bene! Scusate! Mi ha fuori di te quella volta un po'. Ma l'ho anche svegliato! No, l'ho anche svegliato in questa terra! Scusate! 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 No, ma... Ogni volta che sono fuori... In solito... Neanche quelle rare volte che andavo a dormire... Non mi andavo a dormire... Però... A me si pensa... Vabbè! Vai! Vai! Quando sono solo... Al mio ambiente... Mi ha vinto... Devo... Guarda parla aria... Basta! Basta! Aria con due... Aria con due... Aria con due... Aria con due... Qua la vuole con! Scusate! Aria con due... Aria con due... Aria con due... Vabbè, ma fine dove hai capito? No? Eh no, perché mi serve l'alarme. Quindi ho sofferto tutta la notte. Alla mattina cappuccino è merda. Con me è merda la mattina. No, no. No, no. No, no. Quello che è spuish. No, è bella. La misura è la misura. Vabbè, la misura è la misura. Vabbè, sì. Vabbè, vabbè. Ti, ti, ti. Io lo vai. Se avrebbe ancora odio un altro giusto. Che cazzo! Con una delle dispercissime, in calcola. Ma è la mia visione fosse del mo'goñi. Fa' un mentire. ma è solare che io rendo un'infinità altissima ma è un piccolo per l'era però non faccio nessuno per caso non faccio nessuno si è un piccolo per l'era si hai fatto un mezzo? io? si perfezzi? totalevo? forse si per dire vabbè se ti è andato proprio ahia con le ombre guarda Luca non nascuta non sei fregato ahia non sei fregato perché questo gruppo non non ascolti dietro in panico scogli in casa mia non mi ha fatto bene in realtà Luca non è scogli siamo Luca e io sono non ti risponde risponde a cose quando è una ragazza che dice risponde in questo video risponde 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 se lo sono adesso lo ho detto Luca te vuoi abbandonare a Claudia Anca Anca lei è di sopra hai rifà domanda i due non li facciamo siamo uomini mi piace è un uomo un neurone i due i due e i quattro i quattro ecco i quattro interazione la sorpresa tutti i numeri i numeri primi non si possono scomporre né per se stesso forse due quattro no ma che due quattro sette allora due cinque due tre cinque sette tredici tredici no no cazzate tredici 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 no questo mi risolge se mi chiedi se non è l'ultima cosa che ho fatto il teorema di Weiestrasse tipo non me lo ricordo Weiestrasse 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 ok voglio la definizione esatta ma stavo facendo giusto allora tutti i numeri non che non si possono scomporre né per se stesso né per un'altra roba né per te né per se stesso giusto? vado tanto a memoria da sei anni fa tipo un numero moltiplicato per se stesso come vuoi dire? non so su queste cose tu no 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 io sì le ultime cose 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 sono le ultime cose ben tello Bessi 7 e meno. Bravo amico di Ducca. Bravo amico di Ducca, bravo amico di Ducca, bravo amico di Ducca. Molto precisa, ma se il messaggio non è un poema. Scusa Ducca sono a scuola, punto, 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 punto. Sì, insegna matematica, scienza, geografia, dipende. Sì, scienza, 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 tecnologie ambientali. Ma amico di Ducca. Ancora sto amico di Ducca. Vabbè, ancora va più. Vabbè, vado a togliere la scoglie d'arte, sì. Ah, che bello. Vabbè, siamo uguali. Non posso essere spavuti. Vabbè, vabbè, vabbè vabbè, tu. Vabbè, vabbè. Vabbè la Basso, vabbè la Barbara, Sì, questo è il cuore. No, la conosci... No sapevo. Dai, ti vede. Il negoo di Luca come se chama. Sì. Che dobbiamo andare in questo vero. Ha detto che tanti Luca... Non lo so. Io sento Luca da prodotto. Luca! Hai detto che sono quelli del sud che si chiamano? Lo danno? Del sud? Sì. Grazie. Io in realtà dovevo chiamare il Musa. Però vabbè. Allora, i miei voli non vengono il Musa. Musa? Musa? Malato? 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 Non sono degnati di dare un nome più. La tua madre. E so perché la... La cosci... 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 Luca... Sara... La cosci... La cosci... La cosci... L'ho capito... Eh? 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 Ehi, ce l'ha, sì... Ehi, ce l'ha, sì... Trovarga... Io ho dovuto trovargliela poi... E' lui che la trova con lui... Eh? Eh? Ehi, cosa? Ficcola e niente! Lato! Ficcola dove c'è? No, non so se fosse falso. Ma se la mia volta non so neanche parlare davanti alla fine... Non so come parlare davanti al genere femminile. Genna... Genna femminile. Genna femminile. Ah, ti metti in più ancora. Adesso è in più in verde. Bene. Ciao. Ciao la luna. Eh, no, si è avuto. Si è pratici. Si è pratici. Si è uno uomo delle donne. Ah, l'ha fregato. Più per meno uguale. è la pregata è tipo Pierino se più, meno, meno più, vengo, meno se più, meno, meno più, vengo, meno te l'ha pregato meno, meno, più allora per agire con le tue amiche che sarà a morire da libera ah 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 sì se sentimo ciao a tutti se sentimo passo una volta live reaction ho usato un romano tutto tutto io non volevo entrare in live perché senti io se vediamo ma amiche si ma 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 se non vuoi troppo difficile no no ma ma buonanotte grazie 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 posto bella chiudete bella 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 va a power è qui a condividet e campbelli campbelli non so condividet e guarda è quello di condividito è come nel condividet che è stato scherzate scherzate poi gli iscritti e dai va bene ragazzi dai non so quanto è su visual dai dai fammi rifugio come metti questo alla fine non mi dipendono guarda devi salvartelo ti ricordo ah no guarda 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 ragazzi se non ragazzi tredici mi piace almeno per 24 ore quattrocento 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 E se no, ragazzi, ci sentiamo alla prossima foto, prossimo appuntamenti di live in un'ora d'uso. Dai, posto. Ciao ragazzi. Nooo, a posto, a posto, ciao, ciao, a posto, a posto, a posto, a posto, a posto, a chiusi il sito, vai, ciao ragazzi. Ok. 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 Ok.